Chiuso il campionato con il successo del Milan è ora tempo per la nazionale di Roberto Mancini. Il CT Azzurro ha convocato 39 giocatori che il 27 maggio si ritroveranno al centro tecnico federale di Coverciano. Nella lista figurano tutti i campioni d'Europa, ad eccezione degli infortunati Chiesa, Castrovilli, Toloi e Immobile. In azzurro torna Spinazzola, prima convocazione per Pinamonti. Il prossimo sarà un mese denso di impegni per la nazionale. Il primo giugno c'è la finalissima contro l'Argentina a Wembley. Poi ci saranno ben quattro gare per la qualificazione alla Nations League.